Sole sul tetto, i palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove. Nino cammina, sembra un uomo, con le scarpette e gomma dura, dodici anni e il cuore pieno di paura. Mannino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, di giocatori tristi, che non hanno vinto mai ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso rido dentro al bar. E sono innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai, chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Fino capi fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. prese un pallone che sembrava stregato e accanto al piede rimanero incollato e dentro nell'area tirò senza guardare ed il portiere lo lasciò passare. Mannino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore un giocatore dove ti dà il coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. Il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Il ragazzo si farà anche se ne vedrai. Il ragazzo si farà anche se ne vedrai.